Grazie. 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 Primo classificato, una bottiglia d'acqua. No, un bicchiere. Un bicchiere di acqua. Bravo! Bravo! Ma ero troppo veloce da ciò di... Vieni te. Vieni te. Vieni la mano! Vieni tu, la sua spettacolo finica no? Saracino un bicchiere d'acqua? piano Michele minimo questo c'è facile brava un'ora e due minuti